Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. Sono qui con un video fantastico. I nostri nuovi follower, i nostri giocatori di successo, Ali Libraim Cheyan, continuano sempre a seguirci per condividere le meravigliose notizie di Resul e Turkoglu. La separazione degli attori turchi Sila Turkoglu e Ali Libraim Cheyan ha creato una notizia bomba nel mondo delle riviste. I dettagli della separazione della coppia sono diventati motivo di curiosità. Presumibilmente dietro la separazione ci sarebbe un'altra donna e con grande sorpresa è stato rivelato chi fosse questa donna. Dietro le quinte di separazioni, segreti e tradimenti. La storia d'amore di Sila Turkoglu e Ali Libraim Cheyan è finita. La reazione della loro cerchia ristretta e dei fan alla separazione dei due ha spinto i giornalisti dei tabloid a cercare la verità. Sila Tesoglu e Ali Libraim Cheyan hanno risposto alle dichiarazioni sulla separazione. Ali Libraim Cheyan ha cercato di spiegare più volte che non ha tradito solo Turkoglu e ha detto che lo amava moltissimo. Ali Libraim Cheyan ha invitato anche il suo caro amico Sila Turkoglu alla premiere della sua canzone. Ali Libraim Cheyan è un talento con un'ampia base di fan dalla Turchia sia con la sua recitazione che con la sua musica e ha conquistato un posto unico nel mondo della musica sia con le sue esibizioni sul palco che con le sue canzoni sincere. La signora Cheyan ha profondamente impressionato il pubblico con il suo stile unico e le sue performance sincere.